Si consolida la raccolta differenziata cittadina con la sistemazione nella municipalità di Fuorigrotta Bagnoli di campane per l'umido, cioè per i rifiuti organici, come avanzi di cibo, carta unta, fiori e piante. L'installazione è cominciata questa settimana nelle zone di Viale Augusto e di Via Diocleziano e proseguirà nelle prossime settimane. Quell'area era rimasta fuori, la frazione organica, nella raccolta differenziata per motivi tecnici e per motivi di disponibilità di risorse. Oggi quelle risorse sono state trovate e quindi si porta a completamento quell'intervento. Sono state distribuite anche alcune migliaia di biopattumiere per l'umido e materiale informativo per una corretta differenziata. Devo dire che andiamo avanti verso un potenziamento, un miglioramento dei punti di raccolta differenziata. Avremo presto l'intervento sull'intera sesta municipalità che va a passare a porta a porta con un intervento coordinato con la Campania e la SIA e inoltre abbiamo con il CONAI il progetto per un'altra municipalità su cui intervenire per aumentare i punteggi di raccolta differenziata che diventano sempre più significativi dal punto di vista sociale, igienico, salutare e anche economico rispetto al contesto in cui stiamo vivendo che ci rende praticamente obbligati verso questa direzione.